Incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Portare la croce. Nella lingua napoletana spesso questa espressione si traduce con la sopportazione, la rassegnazione, il tirare a campare, e talvolta anche con la stessa disperazione. Portare la croce, ovvero sia, a dare a tutti. Educare all'impegno, cioè alla capacità di passicarico delle altre croci, vuol dire, prima di tutto, eliminare la rassegnazione. Come se l'esistenza fosse un fatale destino che conduce solo verso una conclusione drammatica, la prevaricazione dell'ingiustizia e perciò della sudditanza a vita, anzi a morte. Il ripristino della partecipazione attiva nella città e la realizzazione del bene comune, a partire da coloro che sono gli anelli più deboli della società, diventa un modo concreto per restituire alla gente la forza della speranza e il sogno di un mondo che sia casa per l'intera umanità. Santa Padre del Signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.